Ivan Mestrovich ha realizzato il rilievo La Danzatrice durante il suo soggiorno a Roma nel 1912. L'alto rilievo in marmo raffigura un forte corpo femminile in movimento, ma costretto nel riquadro, sebbene in un atto di danza. Lo sfondo è subordinato alla figura femminile, il capo chinato completamente a sinistra e il ginocchio sinistro sollevato trasmettono un'energia controllata e regolata che racchiude in sé la chiave della danza. Ivan Mestrovich ha modellato La Danzatrice abbinando a delle masse scultore pesanti un movimento leggiadro, creando così un equilibrio dinamico. L'eleganza, la morbidezza e la sensualità sono in sintonia con la quasi maschile forza della massa muscolare. La rappresentazione di Mestrovich è ben lontana dalla figura di una fragile ballerina, la sua donna è forte come il marmo in cui è stata scolpita e incarna una passione repressa con la quale potrebbe annientare lo sfondo che la incatena. Lo scultore ha fino al massimo possibile negato la bidimensionalità della superficie, ma non ne ha del tutto liberato la figura. Ed è appunto da questa tensione che ne deriva la dinamicità, come pure la stessa definizione della danza intesa come l'articolazione della forza svincolata del movimento.